Domani sabato 9 febbraio la Pronissa sarà in trasferta a Bagheria. Nella nota si legge che non sono ammessi cali di tensione perché bisogna allungare ulteriormente sulla diretta inseguitrice, al momento il Monreale, per poi concentrarsi totalmente alla sfida casalinga di martedì contro i laziali per Carboniano. Il fischio d'inizio per la gara di sabato è fissato alle 17 con diretta streaming sulla pagina Facebook della società. Arbitreranno la partita Marilena Catanese e Angela Melissa Saia, entrambe della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto.